E' destino che le partite di campionato tra Gela e da Cireale finiscano sempre con l'identico risultato di 2-2. Era accaduto nel girone d'andata, il cliché si è ripetuto anche ieri sul campo neutro di Noliotta di Licata, né vingitori né vinti. I Biancazzurri chiudono la loro stagione in Serie D al settimo posto con 52 punti frutto di 13 vittorie, di altrettanti pareggi e di 8 sconfitte. Però ieri ai punti avrebbero meritato di vincere Biancazzurri per le troppe occasioni create e sprecate e per due gol annullati dall'arbitro per fuorigioco. Andiamo subito alla cronaca, pronti via e al terzo minuto la Cireale passa in vantaggio con Pannitteri che sfrutta un clamoroso errore del portiere Cascione. Da quel momento in poi è un monologo già rese, prima ci prova Bonanno su punizione, la sua conclusione viene bloccata dal portiere. Lo stesso numero 10 ci riprova subito dopo ma il suo tiro finisce alto sulla traversa. Ancora Bonanno ma la porta accese è stregata. Al 31esimo i Biancazzurri pareggiano con Gallonna ma il direttore di gara annulla per un presunto fuorigioco. Il primo tempo si chiude con un'altra azione Biancazzurra, la conclusione di Cuomo finisce sopra la traversa. Nel secondo tempo i Gelesi incalzano, prima Cipro Valma, il portiere Granata non si fa sorprendere. Poi al 14esimo arriva il calcio di rigore per un Mani in aria. Dal dischetto si presenta Bonanno, realizzazione perfetta e 19esimo gol stagionale per lui. Nel miglior momento del Gela però arriva il 2-1 a Cese, a siglarlo è Alvarez. I ragazzi di Nicola Terrenova premono alla ricerca del pari. C'è anche la traversa colpita da Gallonna e a tre minuti dalla fine arriva il 2-2 siglato da Cuomo. C'è anche il tempo per il 3-2 a realizzarlo è Campanaro. Il gol viene annullato per un altro presunto fuorigioco. Finisce 2-2.